Bene, buongiorno a tutti e tutte, benvenuti e benvenute a questo incontro dedicato alle città che la fantascienza ha immaginato nel corso dei suoi 150 anni di storia. Questa mattina saremo a riflettere al gioco di fantasie e realtà che intercorre nelle costruzioni degli spazi urbani e lo faremo con alcuni esperti, alcune esperte che voglio presentarvi, con noi è Francesca Governa del China Room del Politecnico di Torino, lei è una geografa, Silvia Casolari che è la direttrice e fondatrice del MUFANT, del Museo del Fantastico della fantascienza e Gu Shi che è una scrittrice appunto cinese contemporanea che è anche peraltro urbanista, quindi con lei seguiremo, insomma scopriremo appunto questo grande gioco che c'è fra le realtà immaginate dalla fantascienza cinese contemporanea e quelle invece reali che per certi versi sono altrettanto fantascientifiche e questo incontro è organizzato dal MUFANT, il MUFANT per chi non lo conosce è un museo del fantastico e della fantascienza che è qui a Torino e racconta appunto della storia del fantastico e della fantascienza che è un immaginario che è nato nella seconda metà dell'ottocento, mi trovo spesso insomma a dover precisare o almeno a dover lottare contro un qualche, se vogliamo, riflesso incondizionato quando pronuncio la parola fantascienza perché vedo che nei miei interlocutori e nelle mie interlocutrici spesso parte come dire una fantasia del tipo ominiverdi insomma alieni eccetera, in realtà la fantascienza è un lungo racconto appunto partito nella seconda metà dell'ottocento nel cuore insomma dell'affermarsi nell'immaginario collettivo degli effetti delle rivoluzioni scientifiche tecnologici che racconta appunto del rapporto fra umanità e tecnologia e del suo variare e trasformarsi. Bene, rapidamente oggi appunto parleremo di città della fantascienza, la città fra i tanti argomenti appunto della fantascienza non è appunto soltanto uno dei temi o degli argomenti ma forse si può dire a volte che la città sia la fantascienza, quello che fa la fantascienza è costruire mondi dal nulla, inventarli dal nulla e quindi si trova sistematicamente insomma la narrazione fantascientifica a dover costruire spazi che non ci sono, che non sono stati immaginati che siano appunto altri pianeti, galassie lontane, isole o città del futuro, la fantascienza deve mettere le basi nelle sue narrazioni perché gli intrecci, i personaggi e le storie si sviluppino in questo senso è, come dire, questo forse è l'elemento che più la distingue dal racconto come dire orientato alla realtà, insomma il racconto realistico e ovviamente il costruire spazi, il costruire come dire città, il costruire società è occasione, è sempre stata occasione per costruire sistemi di valori, insomma sistemi assiologici e principi. Questo aspetto, questo archetipo narrativo è qualcosa che la fantascienza, come dire, non inventa ma eredita da un antenato nobile che è ovviamente il racconto utopico cinquecentesco, tutti conoscono a partire dal 1516 dall'utopia appunto di Thomas More in poi le infinite produzioni letterarie che si sono avute, l'eventualità di raccontare un altro mondo dell'altrove, nello spazio e nel tempo per portare l'attenzione al presente e alle sue criticità, insomma. Anche se poi gli antenati o l'antenato vero e proprio del racconto fantascientifico sono quelle utopie scientifiche che nascono nella seconda metà dell'Ottocento e che sono una risposta, come dicevo prima, al diffondersi nel senso comune, insomma, al percepire gli effetti, insomma, delle rivoluzioni scientifiche e tecnologiche stavano producendo sulla società. Questa curiosità fra entusiasmo e paura produce dei racconti che sono sempre utopie, quindi quell'idea di un'altrove pieno di ideali di comunanza, fratellanza e giustizia, probabilmente se non ancora raggiunti, l'utopia scientifica li recupera mettendo al centro un nuovo oggetto che diventa, come dire, la proiezione delle possibilità di cambiamento che è la tecnologia. Le utopie scientifiche raccontano della possibilità di raggiungere finalmente gli ideali di uguaglianza, giustizia, fratellanza e comunanza raccontati dalle utopie attraverso, come dire, la tecnologia e la scienza. La fantascienza quindi nasce lì da Jules Verne a Herbert George Wells nei loro primi racconti e arriva fino ad oggi costruendo appunto mondi, ovviamente le prime città avevano come oggetto centrare l'elettricità e le sue meraviglie, quindi si immaginavano città del futuro, come dire, orientate dall'uso di questa, appunto, di questa, dell'elettricità e oggi c'è molta attenzione alla questione digitale, insomma, ovviamente quindi l'oggetto di interesse in particolare sul tema della città del futuro partono anche dalla realtà ad esempio delle smart cities. Lascio la parola a questo punto a Silvia, Silvia Casolari del MUFANT, grazie Silvia, per farci una rapida panoramica di quelle che sono state le infinite città raccontate dalla fantascienza e vi ricordo semplicemente che, insomma, come MUFANT intanto abbiamo realizzato un piccolo allestimento appunto qui nel corridoio delle aule dispari dedicato appunto al tema della città e domani, sabato, inauguriamo sullo stesso tema, quindi una mostra che si intitola prossime città al MUFANT che si trova appunto qui a Torino in piazza Riccardo Valla 5. Grazie Silvia, ti lascio la parola. Grazie a te, grazie a te Davide. Bene, prima di entrare nel tema cuore del nostro incontro di oggi che è, diciamo, la rappresentazione della città nella fantascienza cinese contemporanea, avete visto abbiamo già attivato il collegamento con la nostra ospite speciale di oggi che è Gu Shi, scrittrice cinese di fantascienza e poi daremo la parola appunto anche a Francesca Governa, però abbiamo pensato che fosse utile, prima di entrare nel tema specifico di come la città è rappresentata nella fantascienza cinese, di soffermarci un momento su come la città è rappresentata nella fantascienza tucur, no? Questo perché? Perché la città nella fantascienza è talmente ricorrente, talmente importante, talmente determinante da non essere un'ambientazione casuale. Potremmo dire, generalizzando, se la fantasy guarda alla, diciamo, a un'ambientazione, a un contesto urbano del passato, quindi ripropone nel borgo medievale, la cittadella medievale e generalmente la fantasy si rivolge alla natura, no? All'ambiente naturale, potremmo dire che all'opposto la fantascienza quasi strutturalmente si rivolge al futuro e si rivolge al contesto urbano, cioè sceglie delle ambientazioni urbane. Davide hai già anticipato il motivo, no? Perché la fantascienza continua a proporci innumerevoli versioni di città del futuro? Perché la città è una sorta di cartina tornasole dell'uomo, dell'uomo che l'ha costruita, che l'ha abita, quindi della società. Essendo la fantascienza un genere che vuole raccontare l'uomo, che vuole raccontare le luci e le ombre dell'uomo, le sue problematiche, le sue criticità, questo può essere anche un po' controintuitivo perché siamo abituati a pensare alla fantascienza come genere d'evasione, genere di intrattenimento. Questo rimane, ed è un valore, no? Dei generi del fantastico. Ciò non toglie che la fantascienza sia in grado di arrivare a delle profondità importanti, cioè descriverci l'uomo del futuro, la società del futuro. Ed essendo la città una cartina tornasole della società, ecco che la fantascienza è piena di città del futuro dalle mille sfaccettature. D'altra parte è nella città, per fare degli esempi, che hanno sede le istituzioni pubbliche, per esempio, è nella città che hanno sede le grandi aziende, le multinazionali, che poi nella science fiction diventano le grandi corporation. È nella città che si vedono le disuguaglianze sociali. L'assetto urbano dei quartieri della città ci fa vedere in modo evidente le disuguaglianze o le diversità sociali, fra le classi sociali. Insomma, è nella città che gli architetti sperimentano e che costruiscono torri sempre più alte, che estremizzano i progetti. Quindi nella città succedono le cose importanti. La città racconta tantissimo della società che l'ha costruita. Ecco perché nella fantascienza le città ricorrono in davvero mille modi. Visto che però le immagini sono sempre un po' meglio delle parole, vediamo un breve video che abbiamo costruito proprio per la mostra Prossime Città, che inaugura domani e domani al MUFANT, ed è un montaggio audiovisivo su alcune delle più iconiche, note, importanti città, principalmente del cinema, ma ci sono anche estratti da serie televisive e alcuni videogame. Dura due minuti e mezzo, è breve ma non brevissimo e ce lo vediamo. Ciao a tutti 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 Ne abbiamo approfittato per sostituire il microfono perché aveva delle interferenze Sicuramente avrete riconosciuto degli spezzoni, delle sequenze, no? Io mi sono segnate alcuni dei titoli ma ce ne sono molti di più, ci sono pezzi di Blade Runner, del Quinto Elemento, di Ready Player One, di Star Wars, di Star Trek, di Fahrenheit 451, di Total Recall, di Ritorno al Futuro, di Minority Report, insomma tanti classici e cult della fantascienza cinematografica. Per le serie televisive, per le serie televisive ci sono le serie televisive, come upload, come fondazione tratta da Asimov naturalmente, come The Expanse, per l'animazione c'è un pezzo di Ghost in the Shell, di Futurama, di Akira, insomma le grandi opere tra cinema, seriale televisiva, animazione e anche qualcosa del videogame. Questo per portarci al punto, quante volte e con quante infinite modalità la fantascienza è stata rappresentata nella fiction fantascientifica. Adesso lancio una breve presentazione che ci serve anche qui a contestualizzare, no? Nella mostra Prossime Città abbiamo, diciamo, suddiviso questa innumerevole presenza della città nella fantascienza in alcune tipologie, alcune tipologie di città che ricorrono, che tornano, no? Negli anni, che tornano su più media. La classificazione in tipologie naturalmente non è esaustiva, non pretende di esserlo, no? Però è un aiuto nel districrarsi in questo mare magnum dello spazio urbano nella fantascienza. Partiamo dalla città tecnologica. Io, appunto, vi consiglio di guardare soprattutto le immagini. Se volete approfondire trovate questi testi anche nell'installazione che abbiamo allestito qui nella hall d'ingresso del Politecnico. E' un'installazione sulle città della fantascienza intitolata La città del sole. Abbiamo omaggiato l'utopia classica di Tommaso Campanella. Partendo dalla città tecnologica, è chiaro, ogni volta che ci immaginiamo una città fantascientifica, che sia il film o che sia in un film o che sia in un fumetto o su un altro media, istantaneamente, molto naturalmente, ci viene in mente una città del futuro ipertecnologica, no? Piena di gadgets, di tool iperfuturistici. Ebbene, può essere interessante soffermarci sul fatto che le ipertecnologie, ad esempio, della città dei Blade Runner, oppure i taxi volanti, non so se ricordate, no? Il taxi volanti del quinto elemento di Luc Besson, oppure l'ipertecnologia delle città di Matrix, non sono recenti nella rappresentazione fantascientifica. I capostipiti di questo modo, no? Di riempire la città di gadgets tecnologici, sono, peraltro, come hai anticipato nella premessa, da rintracciare nelle utopie scientifiche di fino all'Ottocento. Queste narrazioni che ci presentano una utopia, cioè un mondo lontano dal presente dell'autore, migliore, no? Un mondo dove si è raggiunta la parità tra i generi, dove c'è uguaglianza, dove c'è sostenibilità, dove c'è pace, dove c'è giustizia. Il maestro dell'utopia scientifica di fino all'Ottocento è Albert Robidat. Albert Robidat, se guardiamo la terza immagine, no? Vediamo un taxi volante di fino all'Ottocento. È una delle bellissime illustrazioni di Albert Robidat, che è stato un grande scrittore contemporaneo di Jules Verne, ma anche un grande illustratore. Ebbene, Robidat, già a fine Ottocento, nel suo romanzo più noto, più popolare, che è Le 20e siècle, 1880, ci descrive queste città piene di macchine volanti e immagina addirittura il taxi volante che prende i passeggeri direttamente dal balcone di casa, no? Le prime rappresentazioni delle città ipertecnologiche sono da rintracciare nel passato, a cavallo tra Ottocento e Novecento. Un'altra tipologia di città che ricorre nella fantascienza è la città divisa. Cioè la città che presenta una narrazione in cui la popolazione è nettamente divisa in due o più parti. Divisa da un muro, divisa tra sottosuolo e aria aperta, e superficie, divisa per diverse ragioni. L'esempio classico in questo caso è da rintracciare nella nascita stessa del cinema di genere fantascientifico. Mi riferisco naturalmente a Metropolis di Fritz Lang, espressionismo tedesco, capolavoro della prima fantascienza cinematografica. Non so se ricordate Metropolis, ci presenta questa città futura, no? che si sviluppa vertiginosamente in verticale, dove però la popolazione è divisa in due. Ci sono le classi operaie che vivono nel sottosuolo e le classi benestanti che vivono sulla superficie. Gli operai nel sottosuolo, altro non fanno che azionare continuamente i grandi macchinari per dare energia alla città di sopra. Gli esempi sono davvero tanti, ma se volete approfondire, ripeto, potete appunto visitare l'allestimento o visitare la mostra che domani pomeriggi inauguriamo al Mufant. La città chiusa, un altro modo ricorrente di rappresentare la città nella fantascienza, cioè una città chiusa sotto qualche cosa, sotto una struttura che la protegge, che la protegge da un ambiente esterno ostile, magari da un'atmosfera, da un'aria irrespirabile, o da un grande pericolo che incombe. La rappresentazione classica di questo tipo di città la vediamo nella terza immagine, la classica città del futuro sotto la cupola geodetica. In particolare, quell'immagine che vedete è la copertina di un celeberrimo romanzo che è il primo numero di Urania, Urania è la più longeva rivista di fantascienza, Mondadori, che nasce negli anni cinquanta e ancora adesso si trova nelle edicole. Ebbene, quella è l'immagine della città sotto, protetta dalla cupola geodetica, del primo numero di Urania, che ha pubblicato Le sabbie di Marte, di Arthur Clarke. Io vado velocemente, perché il tempo è tiranno, e vorrei lasciare appunto la parola alle ospiti che verranno dopo. Dopo la città chiusa c'è la città spaziale, quanti film, quante serie televisive, quanti romanzi partono da un incipit, da un inizio in cui si dice che l'umanità deve abbandonare il pianeta Terra per varie ragioni, o per esplorare lo spazio, o per fuggire da un pianeta che ormai è diventato inospitale, e cosa si usano per l'esodo? Si usano queste grandi astronavi che altro non sono che delle città completamente autosufficienti che viaggiano per l'esplorazione o la fuga, ripeto, nello spazio profondo. Dopo la città spaziale abbiamo individuato la città utopica, in realtà ne abbiamo già parlato, questa idea di presentare una società migliore al presente nasce naturalmente con la prima utopia che è quella di Thomas More, 1516, utopia, appunto, e nel corso dei secoli l'utopia viene molto usata, viene molto battuta dagli scrittori, dalle scrittrici, quindi ci sono varie forme di utopia tra il 500 e l'800, ma nel 900 l'utopia sparisce. Perché sparisce l'utopia? Perché arriva al suo opposto, la distopia. Nella distopia, cioè nelle narrazioni dove il futuro è estremamente peggiore del presente, le città diventano delle città incubo, dei veri e propri incubi tecnologici. Diciamo che il 900 ha dato le grandi distopie fantascientifiche, a partire naturalmente dalla più nota e dalla classica distopia che un po' ha aperto, ha fatto da apripista, che è il 1984 di George Orwell, dove vediamo una città incubo che manifesta proprio il totalitarismo, che domina questa città, società del futuro, e dove non si vedono altro che slogan di partito e icone continue delle immagini del grande fratello. La città post-apocalittica, altro grande must della fantascienza, cioè il relitto di una città, la città post-apocalittica, che naturalmente, la narrazione post-apocalittica fantascientifica, parte da una grande catastrofe, che può essere ambientale, può essere sociale, insomma, qualcosa è successo di terribile e la città in queste narrazioni non è altro che un relitto di città, spesso rappresentata con la natura, che cercano di ritrovare il suo posto. Infine, e direi che possiamo concludere con altri due esempi, la città continua, anche questa molto ricorrente, immaginiamo ad esempio la città continua intesa come una città, una megalopoli che non finisce mai, che non ha confini. L'esempio classico in questo caso è lo Sproul, descritto da William Gibson, William Gibson è stato un po' il padre della letteratura cyberpunk, autore di quella meravigliosa trilogia che è neuromante, Mona Lisa cyberpunk e Giù nel cyberspazio, ebbene William Gibson le sue città le chiama Sproul e sono delle megalopoli enormi sostanzialmente che ricoprono tutta la costa dell'America orientale da Boston ad Atlanta, cioè sono delle città che non finiscono mai, giganti, delle megalopoli senza confini. Finiamo con la città verticale dalla quale forse saremmo dovuti partire perché in effetti da quando a New York iniziano nel fine ottocento, inizio novecento a comparire, ad essere costruiti i primi grandi grattacieli che poi si diffondono a macchia d'olio in tutte le città statunitensi, ebbene da quando compaiono i grattacieli nella realtà, i grattacieli, le torri svettanti, queste torri altissime, entrano nella rappresentazione della rappresentazione dello spazio urbano nella fiction. E quindi la città verticale è proprio un must della rappresentazione urbana nella fantascienza. Bene, questo è una sorta di bignami, un affresco di quanto la città sia importante in questo tipo di immaginario. E naturalmente il contesto urbano nella realtà cinese, sia nella fiction, quindi nella science fiction di fantascienza, ma anche nella realtà, insomma, se stiamo alla nascita velocissima di megalopoli in Cina, ebbene questo è un lato specifico di questo mood della fantascienza di rivolgersi allo spazio urbano. E quindi io adesso cederei la parola. Grazie Silvia. Bene, sì, prima di lasciare la parola a Gushi, insomma, un'introduzione sulle ragioni appunto del grande boom della fantascienza cinese oggi. Ovviamente, come vi dicevo prima, la condizione perché un racconto fantascientifico nasca in una cultura, in una società, è il suo livello ovviamente di avanzamento, diciamo, tecnologico. Per questo, Jules Verne scrive a Parigi nel corso della fine dell'Ottocento e Herbert Jules Verne scrive a Londra nella stessa epoca e inevitabilmente le due metropoli, simbolo del progresso, dell'inizio, insomma, dei grandi cambiamenti. Questo spiega anche un po' in realtà perché la fantascienza cinese nel corso del Novecento abbia visto un inizio esitante, insomma, un po' forse anche come è accaduto in Italia, no? È soltanto nei primissimi anni del Novecento, 1903, 1907, che Lu Shun, il padre, insomma, anche della letteratura cinese contemporanea, riscrive, per certi versi, traducendola dalla terra alla luna di Jules Verne. Ecco, e fino praticamente a tempi recenti c'è stato un relativo silenzio, sentiremo poi, chiederemo più nel dettaglio alla nostra ospite ovviamente, di contro, diciamo, negli ultimi 20-30 anni anche in risposta proprio all'incredibile progresso, crescita del mondo cinese, insomma, economica e soprattutto tecnologica, è nata, come dire, una letteratura di fantascienza che crescentemente, insomma, ha raccolto interesse e importanza internazionale e che oggi appunto è un riferimento insomma decisivo. Siamo contenti quindi per scoprire e conoscere più nel dettaglio di avere con noi Gushi. Benvenuta a Gushi, grazie per essere con noi. Ciao. Gushi. Buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno a tutti, io sono Gushi, per favore mi aiutate a mettere su il mio PPT, molto bene, grazie. Io sono Gushi, io sono in Cina, adesso in Cina è notte, è molto piacere partecipare all'evento di oggi, io sono una urbanista, perciò io sono anche una scrittrice in questo settore, dal 2004 ho studiato urbanistica, nel 2012 ho iniziato a lavorare e dal 2008 ho iniziato a scrivere, nel 2011 è la prima volta ho pubblicato il mio primo romanzo, perciò io ho sempre dato un modo, sono molto sempre interessata al futuro di questo mondo, sia reale che immaginario, perciò molto contento di essere qua con tutti voi. Io lavoro alla China Academy of Urban Planning and Design, mi occupo di progettazione urbana, ricerca sulla pianificazione e poi quando discutiamo questo tipo di opera sul nostro mercato io devo dire che è molto difficile a discutere perché io sono specializzato nella urbanistica sono anche una scrittrice perciò ogni volta che io ho un'idea molto di avanguardia razionalmente mi dico non è possibile da realizzare perciò voi sapete che c'è un romanzo che ha vinto un premio che si chiama Beijing Folding il premio Hugo ha vinto perché ha immaginato la città di Pecchino in tre spazi e tutta la città intera può ruotare e possiamo dire che come Sivia ha menzionato chi sta sulla superficie è più ricco e chi che possono godere del sole della natura invece chi è più povero devono vivere sotterraneo lavorano magari solo di notte per pulire per togliere le imbondizie perciò per me nel 2015 è stato molto impressionante per me ho letto questo romanzo ho detto è molto interessante però ho preso nota sul mio taccino ho detto in concetto è molto buono ma economicamente e finanziamente non era fattibile perciò non si può essere utilizzato sulla pianificazione veramente però è un ottimo romanzo fantascienza un altro molto esempio molto famoso non so se mister Liu Qixin lui ha scritto anche un romanzo molto importante si chiama la terra che diciamo che la terra il pianeta terra che vaga nella spazio in questo film qua abbiamo visto una breve parte quando è arrivato l'avvento solare il nostro pianeta dobbiamo affrontare la possibilità di essere distinto perciò qual è la scelta finale della popolazione abbiamo installato tantissimi engine motore nel mondo per spingere la terra andare lontano dal sole e poi la superficie della terra la temperatura ha bastato tantissimo perciò la popolazione ha abbandonato le città questa rappresenta la città di Pechino questa immagine abbiamo abbandonato la nostra città sulla superficie siamo andati a vivere nella sotterranea questa concezione questa idea possiamo dire che in Cina ci sono già diverse opere anche diversi film che hanno questa linea di pensiero al contrario dal punto di vista sempre da urbanistica nel nostro lavoro attuale noi valutiamo anche gli spazi sotterranei possiamo sviluppare diventare magari centro commerciale per metri metro metropolitana tubature facilities eccetera però se dovessi pianificare dal punto di vista pratico di urbanista vivere proprio il mondo sotterraneo io credo che c'è un rischio di sicurezza perciò ci sono grandi inondazioni la città sotterranea è più facile subire i danni perciò non sarà molto sicuro non c'è la luce solare e sarà sano o non sano perciò quello che sento io essendo un urbanista che mi aiuta perché però lo stesso modo mi limite perciò per un lungo periodo di tempo io non ho mai scritto della fantascienza che è collega con la città però in questi ultimi anni sto cambiando anch'io all'inizio magari sto attento a vedere quale tema scegliere perciò in America c'è una fondazione X-Price loro mi hanno invitato a scrivere un romanzo riguardo l'oceano profondo per protezione dell'oceano io ho scritto romanzo poesia e distanze per la vita è stato tradotto anche in italiano in questo romanzo ho procetto un piccolo robot in grado di mangiare inquinamento di petrolio e rifiuti di plastica nell'oceano e poi dopodiché dopo aver inserito queste sostanze inquinanti possono stampare in 3D e replicare il proprio corpo perciò in un certo senso sono diventato una creatura di plastica biologica alle fine hanno stampato una nuova città una città una cività robotica sul fondo dell'oceano però da punto di vista perciò io credo che non è di grosso valore pratico questo tipo di fantascienza anche se dovesse esistere davvero questa città però è sempre lontano dalla nostra vita quotidiana l'ultima volta che ho iniziato a avvicinare il mio ruolo di urbanistica e scrittrice di fantascienza nell'occasione di 2019 c'era una biennale di urbanistica di Shenzhen in Hong Kong queste sono due città molto importanti in Cina loro hanno organizzato un evento sul tema della città in cui c'era una sezione molto importante si chiama Upgrading della città perciò è stato curato da accademico Mei Tianming e Mr. Wu Yan che è direttore del centro della scienza dell'università del sud perciò dentro questo aspetto c'era un'altra sezione speciale si chiama 9 città 10.000 futuri perciò sempre sempre curato da Wu Yan e Chen Yu hanno invitato tantissimi artisti anche architetti anche studenti tutti lasciano una visione loro della città di futuro perciò hanno anche alcune installazioni artistiche molto interessanti e hanno registrato anche diversi suoni della diversa parte della città e hanno inserito nella mostra invece nella parte destra possiamo vedere che noi abbiamo un armigliare si chiama Huontian e loro sulla base di questo apparecchio hanno creato una città si chiama Huontian Chen la città di Huontian perciò tutte queste architetture io credo che sia molto interessante perché sono piccole clip io ho scritto anche un romanzo il mio romanzo è stato messo dentro la raccotta 9 città 10.000 futuri in questa raccotta ci sono 34 scrittori artisti scrittori io sono uno di questi 34 alcuni sono romanzo intero gli altri invece sono solo una parte del romanzo abbiamo fatto anche una discussione io ovviamente il mio romanzo sempre su una città è stampato con 3D stampante perciò noi possiamo tramite la stampa 3D possiamo modificare la decolazione interna della ogni stanza perciò possiamo modificare la decolazione interna ogni giorno poi posso sciogliere questi materiali e poi stampare una nuova posso cambiare l'aspetto della mia casa ogni giorno perciò da questo punto di vista io credo che in futuro la definizione dello spazio la definizione dei diritti di proprietà possono cambiare completamente perché sarebbe un collegamento di una tecnologia virtuale è un mondo reale e possono scomparire tra un momento e l'altro poi c'è un altro molto importante di scrittrice cinesi che ha scritto un libro si chiama White Tide in questo lavoro in questa opera ha raccontato una città costruita da rifiuti e del componente elettronici perciò oggi non abbiamo tantissimo tempo vi suggerisco di leggere questo libro l'ultima che è più recente ieri ho finito questo romanzo io ho avuto una collaborazione con l'università di Arizona statale mi hanno chiesto di scrivere un romanzo un aspetto cioè un romanzo che discute la prospettiva di un cambiamento climatico però in maniera positivo io ho scritto anche un romanzo che si chiama Zuo Chen per scegliere una città questi sono due aspetti uno riguarda la città di per sé quando dobbiamo affrontare il cambiamento climatico quale sono quello che incide sull'aspetto concreto ho immaginato tre città la prima città è una città molto simile in cui viviamo in questa città devono affrontare ogni anno dell'inondazione magari tre quattro mesi in un anno sarà sommerso dall'acqua in questa città io devo dire che diciamo hanno un modo di reagire un po' relativamente passivo con modifiche minime agli spazi urbani magari giungono installare airbag esterni su auto in modo che in caso di audazione l'auto si trasmasse in un piccolo hovercraft galleggiante oppure possono giungere ed edifici di sopravvivenza che possono cottivare i ortaggi riparazione dei veicoli i navi infrastrutture come impianti energetici approvvigionamento idrico impianti di drenaggio perciò durante l'inondazione come abbiamo detto prima noi una volta abbiamo tutti questi airbag all'interno della macchina invece in questa città lo mettono all'esterno così diventa una macchina galleggiante la seconda opzione è di abbandonare la città di prima perciò cambiano città vanno in una città di roccia una città un po' più alta a livello di attitudine e addirittura vanno a vivere nella città dell'est praticamente questa città è stata progettata nel mar cinese orientale posizionata ad una piattaforma di tribulazione petrolifera sul fondo del mare che diventano città perciò tutte queste città sono modifiche dal punto di vista fisico e poi ci sono altri tipi di tecnologia come intelligenza artificiale io ho scritto anche un altro aspetto molto più esagerato che magari possiamo modificare la nostra biologia che avremo anche essere umani potrebbe avere questa capacità di vivere sotto mare come i pesci però io credo che sono cose molto interessanti quando dobbiamo affrontare il cambiamento climatico possiamo cambiare molto perché nel nostro settore di urbanistica ci sono tanti maestri contemporanei in Cina noi cerchiamo di imparare da loro all'inizio della nostra settore e magari dobbiamo imparare anche dei esperti magari di cento anni fa però devo dire che il concetto non è stato modificato tantissimo già dalla prima evoluzione industriale è sempre sulla macchina sulla città però la base è sempre la stessa non è proprio creativa perciò credo in futuro ci potrebbe essere la nuova possibilità quando affrontiamo delle crisi di diverse specie possiamo risolvere dei problemi tramite la nostra immaginazione possiamo scegliere una direzione nuova una nuova fondamento la fantascienza non è possiamo tramite la fantascienza possiamo con pochissimo costo immaginare proiettare diverse strade diverse direzioni per prevedere quale sarebbe la conseguenza quale sarebbe il risultato infine io credo che ci sono tantissimi altri scrittori di fantascienza tutti hanno scritto delle diverse possibilità però io non ho potuto leggere tutti perciò non posso anche elencarli oggi quando ho scritto questo romanzo ho anche discusso con i miei colleghi del mio settore magari ho detto se avete delle idee io ho inventato un ruolo di una intelligenza artificiale che si chiama Tai Yu in Cina ci sono già questo tipo di ricerca ci sono diversi tentativi perciò credo che nella nostra immaginazione tra realtà e la fantascienza secondo me ci sono anche tantissimi spazi di esplorare e discutere insieme io spero ci possa essere più occasioni in futuro di discutere insieme con voi grazie mille per l'ascolto grazie 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 molte molto appunto interessante è importante sentire avere conferma di quanto la tecnologia abbia poi un ruolo decisivo anche quindi non è raccontata come spesso accade nella fantascienza in senso nella fantascienza contemporanea come strumento di come dire inquietante di controllo o in generale distopico ma è interessante sentire invece come dai dai tuoi racconti la fantascienza venga la fantascienza e la tecnologia venga raccontata come strumento per come dire migliorare la vita pensavo al tuo pesce robot che mangia appunto i rifiuti nell'oceano piuttosto che non addirittura come dicevi tu le nostre la possibilità di modificare i nostri corpi biologicamente per vivere insomma sotto il mare la questione insomma che riprendendo anche un po' il tema quello che diceva Silvia poco fa della città divisa è che noi abbiamo comunque affrontando la questione del rapporto fra umanità e tecnologia spesso una visione come dire molto urbanocentrica quello che succede dentro la città è quello che le tecnologie possono migliorare o peggiorare ma è interessante questo vorrei chiedere a Francesca governa proprio dal suo sguardo insomma di geografa guardare oltre insomma lo spazio c'è la stringenza dello spazio urbano con le sue questioni problematiche eccetera ma vedere il rapporto insomma della città con il fuori grazie Francesca allora sì buongiorno buongiorno a tutti a tutte a me ho capito che oggi spetta fare la parte noiosa nel senso che Silvia ha fatto vedere i video Gushy ha parlato di libri io vi dovrò parlare un pochino del mestiere che faccio io sono professoressa di geografia e studi urbani qui al Politecnico di Torino e quindi non sono un'esperta di fantascienza e però diciamo nella nelle poche cose che ho letto di mio per mia curiosità e nelle cose che ho sentito sentito oggi ci sono in realtà tutta una serie di possibili collegamenti di possibili intrecci che mi sembrano assolutamente affascinanti provo a dire quali sono le ragioni secondo me di questi diciamo le principali ragioni di questo fascino di questo dialogo fra chi per mestiere come me un po' noiosamente cerca di capire qualcosa di che cosa sono le città che abbiamo fuori dalla finestra e invece questo mondo senz'altro più aperto all'immaginazione poi è interessante che Gushy tenga insieme le diverse le diverse prospettive prima ragione senz'altro c'è un libro che è stato pubblicato nel 2017 poi in Italia nel 2020 scritto da due studiosi che si chiamano Asha Min e Nigel Trift un libro che si intitola Vedere come una città e in questo libro loro sono due studiosi molto importanti dicono parlano della conoscenza urbana come un'arte scienza incontrollabile incerta un processo conoscitivo incompleto e congetturale fatto di ricostruzione verifica di congetture e incompletezza dell'imparare ciò che c'è più e più volte e che ha bisogno adesso più di sempre di imparare a lavorare orizzontalmente fra e con diversi linguaggi traendo informazione e dati da diversi fonti allora senz'altro i dati statistici senz'altro sono il nostro materiale senz'altro le mappe le cartografie materiale nostro senz'altro i lavori sul campo le etnografie eccetera altro materiale nostro però c'è bisogno di ampliare e la letteratura l'immaginazione la letteratura fantascientifica ma non solo è senz'altro una di queste fonti che ci può permettere di ripensare le cose secondo elemento che a me sembra interessante è una notazione piuttosto banale che però mi permette spero di dire qualcosa che abbia un pochino più di senso il fatto che in qualsiasi modo la pensiamo in qualsiasi modo la definiamo ci accostiamo la città è potente è potente nel senso che è potente l'immaginazione l'immaginario che si nutre di città che nasce dalla città la città come luogo dell'innovazione la città come luogo dell'anomia e della solitudine in cui si aggira un nuovo essere umano e attenzione non sto parlando delle città del futuro sto parlando di George Simmel nel 1920 che descrive l'individuo blasé cioè un soggetto un nuovo soggetto urbano che è sottoposto a una pluralità di stimoli e di possibilità che non riesce a padroneggiare che quindi viene sbalestrato da questi cambiamenti ma anche la città come luogo della libertà e qui di nuovo inizio novecento Max Weber che riprende uno slogan presente sui muri sulle mura delle città medievali del nord Europa oppure ancora la città come mostro di nuovo attenzione questo è senz'altro parte della letteratura della letteratura fantascientifica ma è anche parte delle teorie urbane è un mostro che divora gli esseri umani l'immaginario antiurbano è potentissimo trasversale sempre presente a me sembra che fondamentalmente ci sia questa lettura un po' dicotomica il tutto bello il tutto brutto il tutto positivo il tutto negativo però facciamo attenzione perché sia gli esempi di città nella fantascienza di cui ci parlava prima prima Silvia e sia le teorie urbane che noi che fondamentalmente sono quelle che maneggiamo si basano soltanto su un pezzo di mondo si basano sull'esperienza urbana del mondo occidentale si basano sulla città europea e nord americana e in particolare su poche città europee e nord americane Parigi Londra Chicago e New York perché questo? per tante ragioni il fatto che la teoria urbana fondamentalmente si sia costruita in relazione a quella rivoluzione industriale quell'innovazione della tecnologia di cui si parlava anche prima e che diciamo il modello della città occidentale moderno sia diventato il modello di città to cure all'interno di una visione universalista della modernizzazione che considera l'urbanizzazione un processo teleologico lo scrive James Ferguson un movimento verso un punto finale noto che non sarebbe altro che la modernità in generale a cui tutti poi devono uniformarsi ci siamo non ci siamo non importa a me sembra che però qualcosa è cambiato o almeno qualcosa si stia muovendo è un cambiamento con cui stentiamo a fare i conti ed è un cambiamento che come spesso accade quando si parla di città si situa su almeno due piane un cambiamento di fenomeni e un cambiamento di interpretazione e di immaginari cambiamento dei fenomeni lo dico un po' banalmente però basta andare a vedere i dati noi stiamo assistendo a uno spostamento dell'asse dell'urbanizzazione a scala mondiale fondamentalmente per buona dalla seconda metà dell'ottocente per buona parte del novecento i processi di urbanizzazione più intensi si concentravano nel mondo occidentale in Europa e negli Stati Uniti ora i processi di urbanizzazione più intensi riguardano soprattutto l'Africa e l'Asia e nel prossimo futuro sono ancora più selettivamente concentrati secondo i dati dell'organizzazione delle Nazioni Uniti che hanno tutta una serie di problemi e semplificazioni ma non importa sono ancora più concentrati in tre paesi Cina India e Nigeria quindi non più Stati Uniti non più Europa ma altri pezzi di mondo che non rientrano nel nostro immaginario e non rientrano neanche nelle nostre teorie a questo cambiamento dei fenomeni che è un cambiamento importante un cambiamento strutturale direi dal punto di vista urbano si affianca anche un cambiamento delle interpretazioni in tanti campi dalla letteratura alla storia noi andiamo all'affermarsi progressivo faticoso ma comunque direi senza diciamo che non può fermarsi di visioni post e decoloniali questo riguarda anche il campo urbano che cosa vuol dire in campo urbano una visione post e decoloniale vuol dire che si mette in luce un aspetto chiave banale però in realtà ahimè radicalmente allontanato dal nostro universo di senso il fatto che l'idea di città l'immaginario urbano è generale generalizzabile dal punto di vista teorico ma non è universale perché è fortemente situato localizzato da qualche parte ci sono delle differenze delle specificità e delle fratture allora che cosa ha a che fare tutto questo con la fantascienza a me sembra che abbia a che fare con la fantascienza per almeno tre ragioni allora il primo aspetto è la possibilità o impossibilità di pensare il futuro e il come farlo a me adesso io come vi dicevo all'inizio non sono un'esperta di fantascienza però anche rispetto le questioni che venivano sottolineate prima da da Silvia e da Gouchy mi sembra che l'idea di città che pervade la città nella fantascienza benché apparentemente ci parli del futuro e della città del futuro in realtà ci parla del presente del momento in cui il libro è stato scritto delle paure dei desideri delle attese di quel momento lì ed è un presente che non è solo temporale ma è anche spaziale è una posizionalità nel tempo e nello spazio che si proietta nel dopo nello stesso tempo io provo a mettere di fianco questa idea di città del futuro nella fantascienza che a me sembra per tanti versi un dialogo continuo con quello che c'è con quello che c'è nel momento in cui l'autore o l'autrice scrive se invece io guardo come l'idea di futuro urbano è adesso definita e costruita nel campo delle politiche della pianificazione a me sembra che sia costruita attorno a parole chiave assolutamente a spaziali e a temporali cioè che non hanno nessuna profondità in quello che c'è che capita faccio un esempio perché questo sembra la cosa più fantascientifica del mondo ma in realtà è assolutamente mainstream nel campo delle politiche urbane la smart city la smart city che appunto sembra l'idea della città fantascientifica in realtà è la visione mainstream attorno alla quale secondo i fautori di questa posizione è possibile un po' magicamente risolvere ogni problema ovunque in ogni luogo e per sempre e per tenere insieme questa contraddizione radicale che è dell'urbano cioè adesso perlomeno essere il luogo in cui abita la maggior parte i due terzi della popolazione mondiale generare la maggior parte delle emissioni di carbonio controllare l'economia e le catene di forniture e comunicazione modellare la cultura mondiale e la creatività nello stesso tempo quindi essere alla guida di questi processi nello stesso tempo essere i luoghi della vulnerabilità dal punto di vista del climatico dal punto di vista dell'instabilità geopolitica della crescente ineguaglianza la smart city magicamente eh tiene insieme tutto questo e dimentica al di là delle tante critiche che possono essere portate alla smart city ma non è questo il tema a me sembra che dimentichi tragicamente da un certo punto di vista proprio l'importanza sottovaluta perlomeno la necessità dell'immaginazione perché rende tutto chiaro certo e controllabile quando invece a parte che sappiamo che non è ma sappiamo invece quanto si possa imparare no nell'incertezza e nelle tante forme disperse di conoscenza così come anche dalla dalla letteratura questo carattere delle parole d'ordine in particolare citavo la smart city perché è facile perché diciamo si presta anche un facile gioco di parole che non vorrebbe essere intelligente quindi diventa poi un po' come sparare sulla croce rossa però secondo me è interessante perché ci apre un'altra questione cioè questa aspazialità accontestualità totale di queste parole d'ordine che guidano molto il pensiero mainstream sull'urbano e poi in fondo il carattere di ogni utopia e distopia urbana e su questo credo che in realtà quello che viene fuori dall'idea di utopia e distopia nelle città della fantascienza ci dica qualcosa non voglio tanto ricostruire che è già stato fatto detto il riferimento al pensiero utopico del passato perché poi in realtà anche nelle teorie urbane questo riferimento a Thomas More a William Moore cioè praticamente i riferimenti sono i medesimi i riferimenti sono i medesimi e poi si diciamo si condensano in progetti che hanno anche peraltro un forte portato morale questo che è ancora più inquietante però a me piace invece ricordarvi di una cosa che scriveva Michel Foucault negli anni 60 lui diceva a proposito delle utopie ci sono paesi senza luogo e storie senza cronologia città pianeti continenti universi di cui sarebbe certo impossibile trovare traccia in qualche carta geografica o in qualche cielo semplicemente perché non appartengono a nessuno spazio queste città questi continenti questi pianeti sono nati come si suol dire nella testa degli uomini o a dire il vero negli interstizi delle loro parole nello spessore dei loro racconti o anche nel luogo senza luogo dei loro sogni nel vuoto dei loro cuori insomma è la dolcezza dell'utopia e lui contrappone in maniera radicale alla dolcezza dell'utopia che è data fondamentalmente dal loro non essere localizzate nel tempo e nello spazio i luoghi altri quelli che lui chiama eterotopie che sono delle contestazioni mitiche e reali dello spazio in cui viviamo a parte che io sono una ardente fucoltiana ma questo è poco importante però a me sembra importante perché questo riferimento a Foucault e questo ragionamento intorno alla necessità anche di smuovere l'immaginario utopico richiama con forza la necessità di inclinare certezze di inserire discontinuità di riprendere e con forza un esercizio critico sull'urbano che mi sembra quanto mai necessario chiudo se ho ancora due minuti su un ultimo aspetto che è sempre collegato a questo tentativo di discorso che sto facendo e che riguarda diciamo quella che possiamo considerare un po' come la palestra che ci ha improvvisamente catapultato nel futuro no? fino al 2020 allo scoppio della pandemia i primi due decenni del ventunesimo secolo erano caratterizzati da una sorta di fiducia ancora anche nell'occidente verso l'idea che il futuro e il futuro globale fosse un futuro urbano poi è arrivata la pandemia lo shock della pandemia che è anche uno shock urbano e soprattutto uno shock della capacità possibilità di immaginare il futuro urbano uno shock del futuro in sé c'è una letteratura scientifica così come ci sono tanti resoconti che si interrogano e si sono interrogati sulla città pandemica e sulla città post-pandemica per tanti versi le descrizioni degli spazi urbani vuoti svuotati silenziosi muti durante il lockdown rimandano le immagini della città apocalittica della fantascienza però sono le nostre città sono i nostri spazi sono i nostri corpi quelli che hanno vissuto quella roba lì la pandemia di speriamo che vabbè la pandemia la pandemia di covid ha provocato senz'altra incertezza nel pensiero sulla città i principi consolidati dell'urbanistica come la densità la circolazione lo scambio sono stati messi in discussione proprio radicalmente l'idea del distanziamento sociale dell'auto isolamento contrario a qualsiasi principio di base di ogni idea di città le misure adottate hanno reso le nostre città conosciute hanno turbato i valori fondamentali della vita urbana hanno contribuito a diffondere la sensazione che le città non avrebbero mai più potuto essere le stesse che forse non è vero al contempo e qui di nuovo si collega a parte della città nella fantascienza nelle città vuote della pandemia sono anche stati individuati dei barlumi di speranza ad esempio la riduzione dell'inquinamento atmosferico l'aumento dell'attività della fauna cervatica o le reti di mutuo soccorso quindi di nuovo questo abitare le rovine abitare un futuro in rovine di nuovo qui c'è una lunga tradizione di vedere il potenziale utopico positivo nelle crisi urbane è ovvio che ci vorrà del tempo prima che qualcuno capisca appieno come l'imperativo per controllare la diffusione del virus abbia ridisegnato la nostra vita la vita urbana e probabilmente anche i nostri corpi perché secondo me è interessante anche pensare che molto dell'immaginario sulla città nella fantascienza c'è anche molto immaginario intorno al corpo degli esseri umani e questa cosa qui cominciare a pensarli insieme la pandemia credo che ci imponga di andare in questa direzione apprende un'incertezza radicale che è quella che è stata aperta dal covid-19 e di nuovo mi sembra che ponga con forza l'urgenza di una riflessione di una riflessione critica sull'urbano e sul suo futuro che superi semplici e consulanti formule che si come dicevo all'inizio che faccia riferimento a tante fonti a tanti immaginari diversi anche quelli assolutamente ricchi e interessanti che vengono dalla letteratura e dalla fantasrenza grazie 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 francesca grazie mille francesca che è interessante importante insomma riportare l'attenzione alla questione dell'immaginazione alle relazioni insomma spazio-temporari al loro esserci oppure al loro svanire in queste ideale insomma ad esempio delle smart cities che è appunto assolutamente non fantascienza e anche la questione appunto del post pandemia e di come saranno gli spazi urbani dopo la pandemia. Mi viene in mente a proposito anche dei nostri corpi di come anche voglio dire in alcune delle neanche troppo recenti rappresentazioni di spazio e città della fantascienza che devo dire compie trent'anni in questi giorni è il romanzo di Neil Stephenson il cui titolo è Snow Crash e nel 1992 Neil Stephenson raccontava appunto di una serie di vicende appunto che accadevano nel mondo reale ma poi poneva un concetto che oggi è tornato non solo per il post pandemia di moda che è quello di metaverso. Lui per primo Neil Stephenson appunto il sito di fantascienza inventa questa parola metaverso e inventa anche il concetto sia uno spazio virtuale dove si entra appunto con degli avatar insomma e la cosa appunto pensavo ai corpi e pensavo di come anche un po' per prevenire le seduzioni che questa idea di metaverso oggi sta producendo le illusioni, nuove proiezioni, utopie, distopie appunto che siano però curiosamente il metaverso che ci descrive Neil Stephenson oltre ad avere una forma, una grande sfera nera di diverse centinaia di chilometri con strade, con città programmate ogni 256 chilometri insomma eccetera la cosa più curiosa però è che in tutta questa novità del virtuale in realtà poco cambia ad esempio dal punto di vista delle differenze sociali, ci si riconosce immediatamente nel metaverso perché i propri avatar che possono essere costruiti dipendono appunto dalla disponibilità economica che si ha per appunto costruirseli, quindi chi ha poco denaro arriverà con un avatar in bianco e nero e piuttosto sfocato, chi ne ha molto invece avrà un bel avatar tridimensionale coloratissimo e con appunto diverse funzioni extra. Bene adesso abbiamo detto tante cose e tornando appunto alla nostra questione centrale, il rapporto fra tecnologia, spazio urbano, società, fantasia, realtà e anche con l'occasione di avere con noi gusci, lascerei la parola a voi per qualche domanda o qualche curiosità, devo dire che è un'occasione interessante per coglierla. Se ci sono appunto domande. Allora, so che a largo delle coste di Genova adesso si stanno facendo delle sperimentazioni per la coltivazione sott'acqua. Questo potrebbe dopo in un futuro portarci a immaginare davvero una città che possa svilupparsi a largo delle nostre coste e quindi iniziare a immaginare come un'isola subacquea. E come si potrebbe immaginare quali potrebbero essere anche i risvolti? Allora la domanda è complessa, magari possiamo riprendere invece a Gushy che faceva gli esempi prima in quanto, ripeto, urbanista e scrittrice di fantascienza che appunto ha raccontato ad esempio del suo pesce robot che mangia i rifiuti e quindi chiediamo a Gushy appunto se queste eventualità sono percorribili. Ok, grazie. Io credo che... sono molto curiosa cosa stanno cottivando. Io mi infermerò a Genova cosa stanno cottivando e come stanno cottivando. In realtà anche io sto immaginando questa cosa. volevo anche aggiungere che all'inizio il fatto che ho cominciato a scrivere questo robot nell'oceano c'è una versione antecedente che costruirà una città nello spazio. Ho pensato a 3D stampante perché all'inizio non possiamo costruire una nave spaziale subito. All'inizio c'è questa nave, magari è mangiato un po' di piccoli pianeti e poi piccole rocce. Poi utilizzando queste rocce, nuovi materiali possono stampare una parte della nave. All'inizio volevo scrivere questa storia però mi sono accorto che non è tanto facile. Allora ho spostato questo romanzo sotto acqua. Perciò quando immaginiamo la città sotto acqua è fattibile oppure no, io credo che sia molto più facile che non nello spazio. Molto più facile è che costruiamo la città sulla Luna o sul Marte oppure andiamo su un'altra stella, dobbiamo navigare nello spazio. Io credo che la scelta sotto acqua è un buon punto di partenza. Vuol dire che possiamo esplorare veramente il nostro pianeta, nel nostro ambiente, nei diversi ambienti del nostro pianeta. Invece nello spazio possiamo volare mille anni, dieci mille anni, arrivando, quando arriviamo possiamo dire che su un nuovo pianeta, io mi ricordo un film, che perciò non c'è, non c'è, è tutto acqua, magari c'è veramente acqua, però non c'è terreno, però non c'è nient'altro. Perciò tutte le tecnologie che abbiamo accumulato non sarà sufficiente, non ci può bastare, perciò dal punto di vista di fantascienza, cominciando da sotto acqua è un'ottima scelta, è più fattibile. Grazie. Grazie Gussi. Allora Francesca Governa ti lascio la parola. Una notazione per pensarci un attimo, io non ho idea di se sia possibile farlo, cosa succederà, credo che nessuno, credo che dal punto di vista tecnologico siamo sensati, probabilmente siamo in grado di fare operazioni di quel genere lì. però io vi pongo una questione, che è una questione che fa riferimento alla visione antropocentrica, terribilmente centrata su noi stessi che continuiamo a avere, e che rischiamo di esportare anche nel sott'acqua, nello spazio, eccetera, eccetera. Forse bisognerebbe immaginare, imparare a immaginare anche in maniera diversa, no? E quindi usare le tecnologie proprio per mettere in discussione questa idea, che mi sembra comunque, appunto, l'idea di dire, vabbè, non abbiamo più spazio sulla Terra, andiamo da un'altra parte, forse basta, non lo so, eh. Grazie Francesca, sì. Ma direi che, forse, considerata l'ora, potremmo chiudere qui il nostro incontro, ricordo appunto che alcuni dei racconti e dei lavori di Gouchy sono già tradotti appunto in italiano e quindi li possiamo trovare, grazie mille Gouchy quindi, li promuoveremo appunto anche come museo senz'altro, siamo interessati e incuriosi, soprattutto il tuo ultimo lavoro, Gouchy, quello proprio che porta attenzione alla città del futuro. Benissimo, io direi che se non ci sono altre domande possiamo fermarci, salutarci, e vi inviterei appunto a visitare, insomma, a muovervi attorno all'installazione che abbiamo realizzato come MUFANT qui all'ingresso nell'aula delle aree dispari, nel corridoio insomma delle aree dispari qui al Politecnico, e poi alla mostra prossime città che da domani fino al 12 marzo sarà appunto fruibile, vedibile al MUFANT. Grazie a Francesca Governa, grazie, siamo contenti di questa collaborazione insomma che abbiamo avuto con il China Room del Politecnico e speriamo di continuare appunto le nostre avventure insieme. Grazie a tutti e tutte e buona giornata. Grazie. 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 Grazie.